Ciao a tutti! Oggi vi mostro come fare in casa la mitica cioccolata calda, uguale ed identica al ciobar. Servono veramente pochi ingredienti ed è facilissima da preparare. Per prima cosa prendiamo una pentola e ci mettiamo dentro tutti gli ingredienti in polvere, quindi il cacao, lo zucchero e la fecola. Utilizzate il cacao zuccherato, non fate come me che ho utilizzato il cacao amaro. E a poco a poco ci versate il latte, in modo tale da sciogliere tutti gli ingredienti in polvere. Mettete il composto sul fuoco e mescolate sempre, sempre, non smettete mai di mescolare. Quando il composto diventerà liquido, quindi si saranno sciolti tutti i residui di cacao, iniziate ad alzare la fiamma e continuate sempre a mescolare, non smettete mai, altrimenti si attaccherà la cioccolata al fondo della pentola. Quando la cioccolata inizierà ad addensarsi, potete spegnere la fiamma e versare la vostra cioccolata calda nella vostra tazza. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, fatemi sapere se la fate e se vi piace, è veramente buonissima, meglio del ciobar. Io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima, ciao! Ciao!